È stato un anno importante, insomma, anche una votazione importante anche da parte dei giornalisti. Ed è bellissimo pensare che il verdetto è andato su attrici che sono, appunto, alle prime volte. Attrice protagonista, attrice non protagonista, vediamo prima il film. Vediamo, vediamo. Sono tornata da poco per stare con i miei fratelli. Oltre alle pulizie faccio anche il torneo di notte in un supermercato. La morita è un giudano di merda! Mamma mia, allora non hai capito un cazzo! Non lo sei spazzo, Marcello! È quello che avrebbe fatto papà. Papà non avrebbe mai tradito i suoi ideali. Ma nara, come pensi tu? Come si chiama? Antonio. Antonio, sono un medico. Cerco di fermare l'emorogia qui. Sua padre com'era? Allora, insomma, una coppia di attrici notevoli. Attrice, protagonista, Teresa Saponangelo, il buco in testa, di Antonio Capuano. Attrice non protagonista, le chiamiamo insieme. Sara Serraiocco, non odiare, di Mauro Mancini. Un minuto è qua in mezzo, che la luce è migliore. Grazie. Eccole qua. Beh, insomma, un astro sorpresa? Sicuramente. Ricadissimo per tutte e due. Grazie. Io vorrei dedicare questo premio innanzitutto ad Antonio Capuano, perché questo premio sancisce proprio il riconoscimento della nostra amicizia, del nostro sudalizio, che è iniziato un po' di anni fa. Abbiamo fatto insieme tante cose, ed è solo attraverso questa amicizia e stima profonda che siamo arrivati a questo risultato. Grazie. Sara, non lo diamo. Grazie, scusate, perché ringrazio i nostri produttori, Dario Formisano e Gianluca Cursi. E sono qui, tra l'altro, quindi sono sicuramente felici di questo. Vai, Sara. Grazie, grazie al sindacato nazionale giornalisti cinematografici, grazie a Mario Mancini che mi ha dato l'opportunità di interpretare questo ruolo, grazie ai miei compagni di viaggio Alessandro Gasman e Luca Zunic e a un ringraziamento speciale va a Mario Mazzarotto della Molivento Film per aver accompagnato questo progetto in tutte le sue fasi. Grazie. Grazie a loro, grazie a voi. Dai, un grande applauso e alla prossima volta. Ormai avete rotto questo muro dei premi. Avete imparato la strada. Va bene.